Fedechi Cabrilli, campionessa italiana, intanto che tipo di pesca tu pratichi, ricordiamo ai nostri telespettatori? Io faccio la pesca fiume, nei canali, insomma fiumi, toscani, poi giro tutta Italia e ho avuto anche fortuna di girare il mondo perché faccio parte anche della nazionale, quindi faccio queste gare in tutto il mondo. Quindi questo titolo italiano è stata quasi una passeggiata per te, sei provi oppure è stata tosta? Eh oddio, non è facile perché comunque sia ci sono atleti molto competitive in questo campionato, però dai ce l'abbiamo fatta, è andata bene tra i primi tre secondi. Inoltre hai avuto in passato anche esperienze internazionali che sono andate bene? Sì, abbiamo vinto un titolo mondiale a squadre nel 2014 in Portogallo, poi ho preso anche un bronzo con la squadra, quindi qualche soddisfazione è arrivata anche su quell'ambiente là. Quando ti sei avvicinata a questo tipo di pesca? Quando è scattata la passione? Diciamo che ero piccolina, fin da bambina proprio andavo con il mio babbo a vedere le sue gare, lo svegliavo la mattina e poi dopo all'età di 13 anni ho iniziato a intraprendere comunque le gare con i ragazzetti, poi da lì mi hanno detto ma prova andare nelle donne, sono andata nelle donne e poi è venuto tutto. Appuntamenti futuri? Futuri, ora a febbraio ci sta il campionato del mondo in Sudafrica e partiamo e vediamo di raggiungere un altro traguardo. La domanda che si fa in questi casi è a chi dedichi la vittoria? La vittoria va dedicata soprattutto ai miei genitori, alla mia famiglia, ai miei fratelli, ai nonni che ci tengono tanto e comunque a tutte le persone che hanno sempre creduto in me e che mi hanno dato anche degli aiuti per conseguire questi risultati. Grazie. 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 Grazie.